Niente al mondo che mi porti via da te, ne denuncia né di fida, io sarò sempre con te, Italia e nel mondo, noi saremo sempre qua, forza Milano, mollare, cora per l'ultra e io canterò fino al novantesimo, che fatica che ti chiedo, forza Milano, faccio un gol, faccio un gol alla curva su Tia, ma tutta la settimana, io penso solo a te, Rosso Nero, unico grande amore, una grande passione che sta dentro di me. Buongiorno, bentornati nella casa del diavolo, a spasso col Tringa nella macchina infernale, il Tringa è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice in su per il Tringa e doppio pollice per il diavolo. Nel primo commento, team maglie calcio, tutte e magliette, tutti i gadget sportivi, l'eccellenza per quanto riguarda i gadget sportivi, codice sconto Tringa per fare il vostro ordine, ripeto, il numero del gruppo Whatsapp. Parlate in privato con Francesco e chiedete a Francesco tutto quello che volete. Il catalogo lo trovate direttamente nelle immagini del gruppo Whatsapp. In descrizione trovate Matteo Chiamenti, Matteo che saluto, so che ha l'influenza, ieri sera avrebbe dovuto essere in diretta con noi, però purtroppo per via dell'influenza non è potuto esserci. Quindi un saluto e un abbraccio a Matteo Chiamenti. Sempre in descrizione tutti i miei social, Twitter, Facebook e Instagram. Instagram, iscrivetevi a Instagram ragazzi, iscrivetevi tutti quanti. Li trovate anche altro che riguarda un po' la mia vita e la mia giornata dalla palestra a tutto il resto. Palestra in cui andrò fra pochi, fra una mezz'oretta inizierò l'allenamento. Allora ragazzi ci sono un paio di punti da toccare stamattina. I punti da toccare sono prima di tutto gli infortuni, perché comunque andiamo ad affrontare un trittico di partite senza giocatori che in questo inizio di stagione sono stati chiave, soprattutto in Champions League, parlando di Alexis Selema Kers. Dopo gli infortuni voglio parlare delle continue polemiche ogni volta che al Milan succede qualcosa. Ogni volta che il Milan fa qualcosa che la prende un po' di traverso, qualcuno lo attacca e si cerca sempre di sminuire tutto quello che ha fatto il Milan. Addirittura giornali che scrivono ieri che il Milan vince a tempo scaduto. Tempo scaduto è che roba? Il recupero fa parte della partita. E soprattutto il recupero è importantissimo in questo campionato di Serie A, perché ci sono squadre come l'Empoli che perdono tempo e diventa vergognoso giocare 20 minuti a tempo in una partita. Questo è vergognoso, questo bisognerebbe affrontare nei discorsi che si fanno. Invece tutti parlano del fallo laterale di Sandro Tonali. Ma partiamo, andiamo per ordine. Allora ragazzi, situazioni infortuni. Io capisco che qualcuno si lamenta, che qualcuno vede un grandissimo problema per via degli infortuni. Ed effettivamente il problema con l'andare del tempo può crearsi. Però intanto partiamo da un presupposto. Stefano Pioli e il Milan e la nostra squadra ci hanno fatto vedere in più di un'occasione. Anzi, probabilmente sono più le partite che abbiamo giocato senza tanti giocatori che quelle che abbiamo giocato con la squadra, con tutti i suoi effettivi. Quindi io penso che questo allenatore e questa squadra ci abbiano fatto capire che la preoccupazione per le mancanze dei giocatori, spesso e volentieri, è solo nostra, dei tifosi. Poi Stefano Pioli riesce comunque a trovare sempre le soluzioni e soprattutto i giocatori che entrano in campo al posto di quelli infortunati sono probabilmente quelli che nelle partite danno di più. Danno di più. Quindi questo dovrebbe essere di insegnamento anche ai tifosi che oggi sui social si mettono le mani nei capelli e addirittura se li strappano. O tutti quelli pseudo-youtuber che iniziano a puntare il dito sui discorsi allenamenti, sui discorsi staff e queste cose qua. Poi comunque partiamo da un fatto. Allora ragazzi, noi tifiamo Milan e seguiamo il Milan. Però vi posso garantire che lo stesso discorso lo fanno tutti quelli delle altre squadre. Il punto è uno solo. Che si fa male un giocatore al Milan? E vengono giù tutti i santi del paradiso? O comunque anche i media quando ne parlano sembra chissà cosa è successo. Quando si fanno male gli altri giocatori delle altre squadre, i loro tifosi lo affrontano in maniera diversa, non si strappano i capelli e non pensano che il campionato sia finito e i media la toccano di striscio. Questo è il fatto principale. E una volta che i media iniziano a bombardarci di notizie sull'infortunio e iniziano a insinuare il dubbio nei tifosi, poi i tifosi, quelli poco intelligenti e quelli poco inclini a percepire il calcio con la loro testa, vanno dietro a tutto quello che leggono, tutto quello che ascoltano e fanno i drammi, fanno i super drammi che poi andiamo a leggere nei vari commenti o quando si parla di calcio con persone che il calcio probabilmente lo masticano sulla Playstation e non nella vita reale. Poi andiamo un attimino ad analizzare gli infortuni dei nostri giocatori. Allora ragazzi, è vero, infortuni muscolari, però ad esempio nella partita contro l'Empoli c'è l'infortunio di Selema Kers che comunque arriva dopo aver preso un colpo, c'è l'infortunio di Simon Kier che arriva dopo che allunga la gamba per andare a proteggere la porta da un'azione pericolosa dell'Empoli, Davide Calabria che comunque non era uscito bene dal Napoli, qualcuno dice Pioli poteva non rischiarlo però Davide Calabria ha avuto tempo due settimane per riposarsi quindi Stefano Pioli durante la conferenza stampa era comunque tranquillo su Davide Calabria. Oggi ci saranno gli esami strumentali per Calabria e Kier mentre invece ieri sono stati fatti quelli per Alexis Selema Kers e lo stop di Alexis Selema Kers è piuttosto lungo e per quello che abbiamo visto fino ad oggi in Champions l'infortunio di Selema Kers è quello che mi preoccupa di più. Oggi c'è da considerare una cosa, ragazzi abbiamo la fascia destra completamente scoperta. Abbiamo i soli Serginio Dest e Pierre Caluru che possono giocare di ruolo da quella parte. Allora, la formazione col Chelsea io non prevedo grossi cambiamenti io penso che vedremo Fodeballo Touré a destra e Serginio Dest a sinistra con Caluru e Kier centrali mentre invece in campionato probabilmente Pioli darà spazio a Thiev e darà spazio magari a centrocampo anche a Vrancs che quando entrò un paio di partite fa non mi ricordo contro chi forse con la Samp fece comunque un buonissimo ingresso in campo e a me è piaciuto e penso sia piaciuto a tanti di voi mentre invece lì davanti sempre a destra io presumo che vedremo ancora Rade Krunic un Rade Krunic che si dimostra sempre più importante sempre più jolly addirittura Rade Krunic oggi non è più nemmeno da definire jolly oggi Rade Krunic è un elemento fondamentale all'interno della Rosa del Milan perché può ricoprire tutti i ruoli da centrocampo in su e addirittura l'occorrenza l'abbiamo visto fare anche il terzino quindi ragazzi io non andrei a iniziare a spaccarmi il cervello pensando a quali stravolgimenti di formazione io penso che il Milan parta col solito modulo 4-2-3-1 senza grandi stravolgimenti semplicemente cambierà a pioli gli uomini e gli uomini che saranno avranno il dovere e sono sicuro che lo faranno di farci vedere a tutti di essere ottimi giocatori e di poter vestire la maglia del Milan senza nessun problema io sono già sicuro che in questi giorni prima della partita col Chelsea vedremo tutti i vari pseudotifosi saltar fuori siamo rovinati il Chelsea ce ne farà 5-6 io sono convinto che contro il Chelsea la partita la farà il Milan qualsiasi siano i giocatori che scenderanno in campo io ripeto quello che vi dico ogni volta sputare merda sulla propria squadra non ha senso un tifoso cerca sempre di portare l'acqua al mulino della propria squadra qualsiasi siano le difficoltà che la squadra affronta in quel momento perché se non fate questo non definitevi tifosi perché non è da tifosi continuare in perterrito ad avere dubbi sui giocatori della propria squadra i giocatori della propria squadra sono tutti forti sono tutti degni di vestire la maglia del Milan e Fodeballo Turella ha dimostrato zittendovi tutti facendovi star zitti tutti e io se fossi in voi mi vergognerei a fare i video che avete fatto dopo la vittoria con l'Empoli perché dimostra questo dimostra quanto siete bando e ruole quanto non siete in grado di mantenere una via quanto non siete in grado di essere uomini perché tutto quello che fate non è da uomini è da grandi pagliacci vedere gente festeggiare al gol di Ballot Turella fino a un secondo prima lo avete insultato è da vergognarsi vergognatevi ieri sera live bellissima insieme a Mario io penso che abbiamo toccato tantissimi punti e grandissimi punti e tanti spunti di riflessione ieri sera quindi un grazio sicuramente va a Mario ieri sera Pietro non c'era perché comunque ha avuto da fare ma Pietro lo vedrete in questi giorni comunque ci sarà quando avrai ritagli dallo studio perché comunque voglio anche sentire l'opinione di Pietro su tante discussioni che vengono fuori ogni volta quando si parla di Milan quando la classe mediatica va a toccare l'argomento Milan ragazzi il video stamattina finisce qui io vado a farmi un paio d'ore di palestra vi voglio bene a tutti sempre forza vecchio cuore rosso nero e ricordatevi su questo canale se ti fa la vecchia maniera noi siamo vecchio stampo ciao a tutti e buona giornata a tutti è stato un weekend eccezionale mancava solo la ciliegina sulla torta la sconfitta dei gobbi però alla fine possiamo ritenerci soddisfatti di questo weekend le merdi sono sotto un treno ciao a tutti ciao a tutti